Ciao Silvia, buon pomeriggio. Allora sei venuta nel mio studio perché siamo sotto Natale, la tua richiesta era capire i tuoi colori, però questo è il tuo colore di base che direi che è appunto un castano scuro. Anche le sopracciglia hanno più o meno lo stesso colore dei capelli, quindi abbiamo già sul pallottoliere due elementi scuri. Anche l'occhio è il cosiddetto occhio arabo, cioè è un occhio di un castano molto scuro che quasi si confonde, quando ti guardo, si confonde l'iride con la pupilla, quindi è un occhio molto intenso e anche questo possiamo dire che fa parte dei colori scuri. La pelle chiaramente è proprio la parte più chiara, tra virgolette, rispetto a tutti i tuoi colori, anche se però non stiamo parlando di una pelle proprio chiarissima, ok? Quindi direi che il tono della pelle è un tono intermedio, gli altri tre sono scuri, quindi sulla base di quello che è la tipologia sei una intermedia scura e adesso andiamo a vedere il sottotono. Andiamo a vedere con il passaggio del telo oro e argento cosa succede.